Dimissioni dopo la maternità in aumento e addirittura raddoppiate rispetto al 2009. Un clamoroso passo indietro nella regione che si dice a difesa dei minori e delle donne, ma che invece crea un vergognoso gap che farebbe rabbrividire ogni paese europeo. Il quadro che emerge in merito all'occupazione femminile è preoccupante, non solo perché è ferma al 30,5%, ma soprattutto perché è una situazione bloccata. Sono almeno dieci anni che non cresce l'occupazione e quindi non migliora la situazione. A spiegarlo è la consigliera regionale di parità della regione Puglia, Serenella Molendini, parlando a Bari con i giornalisti durante la conferenza stampa sulle iniziative messe in campo dall'ufficio pari opportunità nel 2015 e di quelle previste nel 2016. All'incontro hanno partecipato tra gli altri l'assessore regionale a lavoro, Sebastiano Leo, e la parlamentare europea e componente della Commissione Occupazione e Affari Sociali, Elena Gentile. Il 71% di donne inattive, scoraggiate o peggio ancora, lavora in nero. Stiamo lavorando da un paio d'anni all'interno delle aziende per promuovere conciliazione, vita-lavoro, welfare aziendale. Sono già 18 le aziende che ci stanno seguendo rispetto a questi temi e ci auguriamo che questo progetto possa continuare perché, secondo Molendini, mettere assieme la competitività e la produttività delle aziende assieme alle esigenze di lavoro delle donne può dare frutti. C'è poi l'ambito che sembra off-limits delle donne, come quello delle energie rinnovabili, chimica verde e tutto quel che riguarda la sostenibilità ambientale. Abbiamo quindi elaborato, ha concluso Molendini, un nuovo progetto che si chiama DEA e che partirà a fine giugno e durerà un anno intero. C'è molto da fare, ha dichiarato l'assessore Leo, ma ci sono tutte le condizioni per fare bene, a partire dal supporto all'ufficio della consigliera regionale di parità, che svolge una funzione indispensabile. Grazie a tutti.